vi invito a leggere il libro di mormon il libro di mormon è un libro di sacre scritture paragonabile alla bibbia è una storia dei rapporti tra dio e gli antichi abitanti dell'america e contiene la pienezza del vangelo eterno già nel periodo del profeta joseph smith si invitava a leggere il libro di mormon e a meditare sul suo messaggio se si chiede in preghiera a dio padre eterno nel nome di cristo se il libro è vero e se lo si chiede in fede sotterrà una testimonianza della sua verità e divinità per potere dello spirito santo grazie grazie